Ai primi di ottobre entrerà in funzione il palasalute di via Acquarone di Imperia. Già a partire dalla prossima settimana inizieranno le operazioni di trasferimento di tutto il materiale dalle sedi distaccate, ovvero ospedale, via Nizza e via Le Matteotti, nell'unico plesso alle spalle di Porto Maurizio. L'edificio ospiterà la nuova piastra ambulatoriale e la sede del distretto sociosanitario di Imperia. Si svilupperà su più piani, due dei quali integrati e destinati al parcheggio, poi al piano terra la reception e nei tre piani fuori terra un punto di primo soccorso, radiologia, centro prelievi, cupa, ambulatori, igiene pubblica, attività di consultorio, sezione di igiene mentale, sezione di neuropsichiatria, la direzione del distretto sanitario e le cure primarie. L'opera è realizzata utilizzando una forma innovativa di leasing finanziario con pagamento in 20 anni che consente di ottenere una struttura eredata, collaudata e agibile. Al termine del periodo di leasing la struttura sarà di proprietà dell'ASL 1.